Vi potremmo dire che le immagini del Filco TX10 sono perfette, ma finché le guardate sul vostro televisore non ve ne potete accorgere. Vi potremmo parlare di chassis ultracompatto, comandi a scomparsa, telecomando con 100 canali, ma finché avrete il vostro televisore non saprete cosa vuol dire. Allora preferiamo mostrarvi il suo design. Confrontatelo con il vostro televisore. Convinti? Filco TX10. Tecnologia e design insieme.